Sicuramente è un'emozione fantastica e l'abbiamo vissuta piena, ce la siamo goduta al massimo e io non vedo l'ora di rivedere un po' quello che è successo, come è andata e assimilarla bene un po' più a freddo. Sì, come per dire, ti passa davanti, ti mettono una medaglia al colpo, senti che pesa, questo è il lavoro di questi anni, di una vita, di sacrifici, impegno, dedizione e ti rendi conto che ti passano avanti tutto quello che hai fatto, perché l'Olimpia della medaglia, siamo arrivati al tempo d'arrivo, ma è importante, le tante medaglie che abbiamo vinto in questi anni, ne abbiamo vinte tante, quindi venire a prenderla è stato bello.